Come facciamo a gestire molteplici pagine nella nostra web app ispirata alle single page application che si comporta, che si comporterà sempre più come una single page application, lo facciamo attraverso una libreria che si chiama PageJS e ha come obiettivo quello di fare da router. Cioè, cos'è un router? Il router è una famiglia, diciamo, di librerie, sono una famiglia di librerie che ci permettono di risolvere i problemi associati con la navigazione multipagina, i problemi associati con la gestione delle URL in maniera semplice e automatica, quindi ci permettono di implementare quella client-side navigation. Tipicamente i framework per le single page application già esistenti includono un router o supportano alcuni router che sono dedicati a loro, ai framework. Noi non stiamo usando framework particolari, noi stiamo scrivendo un'applicazione JavaScript a mano, tradizionale, quello che si chiama vanilla JavaScript, perché non c'è nessun framework, perché non c'è niente di strano, di importato, se non alcune piccole librerie. E se si vuole utilizzare un router su un'applicazione JavaScript, vanilla JavaScript come la nostra, sempre single page application, possiamo scegliere in realtà tra un paio di opzioni se abbiamo bisogno un router. E in particolare le due più popolari, le due più utilizzate, sono appunto PageJS, che sarà l'oggetto di questo video, e Navigo. PageJS è un client-side router, quindi la libreria che ci permette di abilitare, di avere la navigazione client-side, abbastanza popolare e soprattutto aggiornato, che non è una cosa scontata, nel senso che è stato aggiornato un mesetto fa per l'ultima volta, che ovviamente ha una pagina con degli esempi, con della documentazione, e da bravo router client-side si integra con le feature di navigazione native del browser, avanti, indietro, e così via. E ha come caratteristiche, ha quattro caratteristiche principali, importanti. La prima è che è piccolo, è una libreria da 1200 byte, quindi circa poco più di un kilobyte. Quindi è una libreria abbastanza snella, che va bene per agganciarla ad applicazioni come la nostra, che non sono particolarmente grosse, o non hanno bisogno di diventare particolarmente grosse. E' facile da integrare, da capire, ed è ispirato da Express. Quindi le stesse root che possiamo scrivere in Express, in un certo senso, possiamo scriverle anche in PJS, quindi con lo stesso formalismo, con la stessa modalità. E quindi una root è specificata da un path parziale, come in Express. Ricordate quando scrivevamo slash exams, e poi mettevamo una callback, qui uguale. Qui scriviamo slash qualcosa, e poi indichiamo una callback che viene chiamata quando quella url viene raggiunta. Ed è anche disponibile come modulo, quindi è possibile importarlo direttamente in JavaScript. Come installiamo PJS? Il PJS può essere installato principalmente in due modi, il cui secondo è quello preferito, o come script globale nel file HTML, oppure importandolo in JavaScript, come import page from questo indirizzo. unpkg.com slash page slash page punto mjs, dove mjs è un'estensione che indica che questo è un file JavaScript, ma questo è un modulo JavaScript che si può importare in questo modo. Come definiamo le root? Definiamo le root in maniera simile a quello che facevamo in Express. Quindi scriviamo page, in Express scriviamo app punto get, aperta parentesi, url virgola callback. Qui scriviamo page, aperta parentesi, slash virgola callback, slash path virgola callback. Quindi questa funzione, che è la funzione page, è la funzione principale in un certo senso, e appunto per definire le root accetta due argomenti. Quindi un path relativo, relativo al server in questo caso, quindi al localhost 2.3000, e una o più callback. Quindi in questo caso, nell'esempio, abbiamo un path che è slash, e una callback che si chiama index, quindi è una funzione, qui sotto da qualche parte ci sarà una funzione che si chiama index, aperta e chiusa parentesi. E quindi quando navigheremo al localhost 2.3000, verrà visualizzata questa, verrà chiamata questa funzione che farà qualcosa, per esempio visualizzerà del contenuto in una pagina. Ovviamente le funzioni, le root, si possono anche indicare, o come funziona con callback, direttamente definite a suo interno, come facevamo con Express. Le root possono avere parametri, due punti id, due punti user, esattamente di nuovo come facevamo con Express. Queste root, come vi dicevo, possono accettare più callback. Cosa vuol dire accettare più callback? Che quando raggiungiamo la pagina courses, prima di tutto viene chiamata la callback, viene chiamata la funzione prepare, e poi viene chiamata la funzione load. Questo può essere utile se per esempio questo prepare, questa preparazione, va fatta in diverse root. Possiamo anche scrivere page asterisco not found, per cui se tutti quelli, page di tutti, quelli che non matchano con le url precedenti, viene chiamata la funzione not found, che dal nome mi sembra abbastanza esplicativo. E poi, infine, dopo tutte le nostre root, che possono essere 4, possono essere 1, possono essere 50, tutte quelle che vogliamo, dobbiamo chiamare la funzione senza parametri, per registrare, per in un certo senso farla partire e agganciare il router all'istanza del browser che sta girando, e quindi alla history API e alle funzionalità del browser. C'è anche un altro metodo per la definizione che si chiama page.base e un path, che definisce un path di base, di partenza per tutte le root. E qui c'è un esempio. Se noi per esempio avessimo page.base.upo, vorrebbe dire che tutte le root che seguono, tutte le altre root della pagina, sono a localhost.3000 upo exams. Come possiamo cambiare pagina? Per cambiare pagina, facciamo finta di essere su slash, per cambiare pagina, dalla pagina in cui siamo a un nuovo path, ci basta scrivere page il nuovo path. Quindi page, il path senza callback, ci porta a questo indirizzo url, eventualmente con la base slash upo. E se vogliamo fare il redirect dalla pagina 1 alla pagina 2, ci basterà scrivere page primo path virgola secondo path, come stringhe. Qui mancano le virgolette. Quindi, se siamo dovunque noi siamo, chiamando questo, lo farà un redirect dalla pagina esami alla pagina corsi. Possiamo anche usare sempre, come dicevo prima, le convenzioni di express, quindi per esempio due punti d recupera l'informazione dell'id e possiamo anche, se non volessimo avere questa doppia callback, da cui da load passiamo a show e da load passiamo ad edit, possiamo anche usare questo formalismo, che in effetti sono uguali in questo caso. definire che qualunque url che segue users deve chiamare load e poi, in particolare, se abbiamo solo id dobbiamo chiamare show, se abbiamo id come parametro ed edit dobbiamo chiamare edit. Questi due sono equivalenti. Se noi andiamo su users slash 1 verrà chiamato questo, in questo caso, che in questo caso chiamerà la prima callback che si chiama load e la seconda callback che si chiama show. In questo altro caso, se andiamo sempre su users slash 1, prima di tutto verrà fatto il match con questo, perché questo dice qualunque cosa che ci sia sotto users e allora verrà chiamato load e poi, dato che la url era users slash 1, verrà chiamato anche show, ma load verrà chiamato dal punto precedente e quindi le informazioni che sono state elaborate saranno disponibili da show. Possiamo anche usare i parametri e il contesto in maniera avanzata rispetto a quanto abbiamo visto finora. Come Express ha un oggetto, se ricordate nella url, che si chiama request e uno che si chiama response, page.javascript ha un oggetto, non ha request e non ha response, ma ha un solo oggetto che si chiama context, che però ha lo stesso funzionamento in maniera concettuale. Allora, vediamo cosa fa questo context con l'esempio che abbiamo visto prima. Vogliamo mappare user 2.id, quindi user 1, user 2, user 3, user 5, e chiamare prima load e poi show. E immaginiamo che vogliamo prendere in questo load, recuperare questi id e caricare, per esempio, da user il nome utente dell'utente, l'intero utente, quindi a partire dall'utente con id numero 1, vogliamo avere un oggetto che contenga il suo id, ma anche il suo nome, il suo cognome, il suo username, il suo indirizzo, il suo indirizzo mail e quant'altro. E vogliamo passare questo oggetto a show, in modo che possa, per esempio, visualizzare alcune informazioni a schermo. Allora, usando questo esempio, mostriamo come possiamo assegnare alla variabile, all'oggetto contesto, dei valori, in modo da mantenere lo stato tra questa variabile e questa. Quindi, in un certo senso, memorizzare in questo oggetto context alcune informazioni da load, in modo che show possa leggerle, quindi usare context come un oggetto, come una variabile, in un certo senso globale rispetto a questi due. Quindi uno stato superiore da cui sia load può leggere e scrivere, sia show possono leggere e scrivere, e quindi condiviso tra questi due. Per esempio, potremmo costruire, quando viene chiamata questa URL, load in questo modo. Prendiamo l'id da ctx, che è questo contesto, dai parametri del contesto, esattamente come l'avremmo preso su Express. Su Express avremmo scritto rec.params.id, e qui ovviamente manca una d, qui scriviamo context.params.id, quindi prendiamo il parametro id dal contesto, dalla URL, che per esempio potrebbe essere 1, e lo memorizziamo in una variabile. A quel punto facciamo una fetch, esattamente come la faremmo normalmente. Alla fetch risponderà con un oggetto di tipo user, user ci sarà la parte di response, e a un certo punto mettiamo, ci sarà la parte di .json per esempio, e mettiamo poi user dentro la variabile contesto, creando un oggetto al suo interno che chiamiamo user. Quindi memorizziamo user in un oggetto user dentro il nostro contesto. E poi chiamiamo un next. Questo next non fa altro che dire a questa funzione, guarda, la load è finita, ma non è finito il tuo lavoro. Chiama la callback successiva. Quella che, se non dovessimo manipolare il contesto, verrebbe fatto in automatico. In automatico, se noi non avessimo tutto questo, e avessimo load che fa certe cose, show che fa altre cose, e magari legge da una variabile, non nel contesto, ma una variabile javascript nel nostro suo file, per esempio da un this.user, queste verrebbero chiamate una dopo l'altra, o verrebbe chiamato questo next. Noi andiamo a utilizzare questo oggetto contesto, che in un certo senso è simile al nostro oggetto request che avevamo nel server, e memorizziamo cose in questo contesto, e quindi dobbiamo chiamare next per dire, guarda, abbiamo finito di lavorare qui, chiamami pure quello che segue, se c'è qualcosa che segue. In questo caso c'è qualcosa che segue, e questo qualcosa che segue può prendere il contesto che abbiamo riempito nella funzione precedente e utilizzarlo. Per esempio potrebbe ritornare context.user, che è quello che abbiamo riempito qui, .username, immaginando che quest'utente abbia uno username a disposizione. Questo chiude la parte sul routing, a meno di ovviamente un esempio in cui vi mostrerò, non lo costruiremo insieme, ma partendo dal nostro, dalla nostra applicazione, partendo da questa applicazione, vi farò vedere come possiamo abilitare, utilizzando page.javascript, il routing, passando da esami a corsi e da corsi a esami, e modificando anche la URL di conseguenza.